Dopo un'edizione tutta con incontri online per l'emergenza sanitaria, nel 2021 Dialoghi sull'Uomo vuol tornare nelle piazze con le sue iniziative in presenza. Il Festival di Antropologia della Fondazione Caripit è in programma dal 18 al 20 giugno e avrà per titolo Altri orizzonti, camminare, conoscere e scoprire, un titolo che richiama i festeggiamenti dell'anno Iacobeo proponendo appunto come suo filo conduttore il cammino dei pellegrini di tutto il mondo ma anche quello dei migranti che fuggono da povertà e miseria, quello avventuroso degli esploratori e il cammino nella ricerca di scienziati, artisti e filosofi. Il Festival arriverà quest'anno alla dodicesima edizione dopo quella online per Covid che ha comunque raggiunto nei dati forniti dall'organizzazione un pubblico di mezzo milione sui canali social con circa 100.000 visualizzazioni delle videoconferenze. Un patrimonio di contatti che non andrà disperso consentendo anche nella prossima edizione al pubblico di potersi collegare a distanza. Gli incontri della nuova edizione dei Dialoghi sull'Uomo vedranno avvicendarsi studiosi di forme diverse di spiritualità religiosa a fianco di scienziati che esplorano la materia, gli viaggiatori che spidano i confini di ciò che ora è noto e studiosi d'arte per comprendere cosa li spinga a creare nuove realtà. Appuntamenti dunque dal 18 al 20 giugno prossimo per un evento che tutti sperano darà il suo contributo a lasciarsi alle spalle mesi di chiusura e chiusure per dare occasione di aperirsi verso orizzonti, in questo caso di pensiero, più ampi di cui mai come ora si avverte la mancanza.